Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno. Buongiorno a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Buongiorno. 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 3-3 3-3 3-3 Bravo! Bravo! 3-3 Bravo! 3-3 Bravo Bravo! Questo rino dasz sauguri. 3-3 schon . 1 ... ... Grazie. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. 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 Sada. Grazie. Sada. 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 bravo 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 Grazie. 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 Sì, adesso vedi un testo, un taglio di mezzo legge. Sì, adesso vedi un testo. Sì, adesso vedi. E, bene. Un testo, non mi sembra. E, adesso vedi, adesso vedi. Ok, quando si mi stia a fare un testo, da non ne sapecie no... ...dieni qua... ...I da faremo 1! 15 su la stagione... ...o' da faremo 25 su... ...è quello da insegnere i... ...pa n'è il loro potrebbero faremo... ...ma non è il loro potrebbero faremo anche le mieiụocki... ...dotto... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie. 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 Grazie.